Ben trovati e buona settimana a tutti da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Fino a metà settimana cielo in prevalenza soleggiato e venti da settentrione che porteranno temperature rigide in particolare oggi lunedì e domani martedì. Probabile peggioramento venerdì con precipitazioni anche a carattere nevoso nell'entroterra. Il dettaglio oggi lunedì 20 gennaio un forte anticiclone sul nord Europa si contrappone a un vortice depressionario sulle baleari che richiama sulla Liguria correnti fredde di origine scandinava. Il cielo si manterrà poco e irregolarmente nuvoloso con addensamenti a tratti consistenti soprattutto a ponente nell'interno del Levante. Venti da nord e nord est forti o di burrasca anche rafficati soprattutto sui crinali. Mare molto mosso localmente mosso Levante. Temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 10 e 12 gradi nelle zone interne tra 6 e 8 gradi. Domani martedì 21 gennaio un parziale indebolimento dell'alta pressione sull'Europa porterà sulla Liguria in attenuazione dei venti. Avremo cielo soleggiato con modeste nubi soprattutto a ponente e nell'interno del Levante in mattinata. Venti da nord e nord est forti o di burrasca anche rafficati soprattutto sui crinali in calo. Mare molto mosso in calo fino a mosso a partire da Levante. Temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 4 e 6 gradi nelle zone interne tra meno 2 e 4 gradi. Massime stazionarie lungo la costa tra 8 e 13 gradi nelle zone interne intorno 8 e 9 gradi. Dopodomani mercoledì 22 gennaio scenario meteorologico invariato con prevalenza di sole su tutta la regione appena disturbato da modesti addensamenti più probabili a ponente e nell'entroterra di Levante. Venti da nord est fino a moderati localmente deboli variabili nel pomeriggio. Mare mosso localmente molto mosso in serata a ponente. Temperature minime in aumento lungo la costa tra 5 e 8 gradi nelle zone interne tra meno 2 e 5 gradi. Massime in aumento lungo la costa tra 13 e 16 gradi nelle zone interne intorno 12-13 gradi. È tutto, seguite i ragionamenti sui siti arpal.gov.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'agenzia. A risentirci!